Allora proviamo Adesso la radio è chiusa Aspetta che riacquisisco Aspetta che riacchiamo Aspetta che riacchiamo Aspetta che riacchiamo Aspetta che riacchiamo Perché sembra che sia un po' troppo fredda adesso a sto punto È un po' bassina di frequenza Pensare che la dicevo alta E sarei andato dentro a smanitare per abbassarla Invece no Vediamo di scaldarla un po' Trasmettendo a periodi con un watt in cv doppio In modo di dire sto usando la radio 9,9,6 Sta tornando in frequenza Proviamo un po' Proviamo un po' Continuiamo a trasmettere un po' A intervalli A intervalli Vediamo se si porta in frequenza L'ambiente L'ambiente mi sembra siano 22,2 gradi Vediamo un po' qua 9,9,1 Un po' bassa È un po' bassa 9,9,1 Però c'è da dire che l'avevo lasciata In sola ricezione Perciò bisogna trasmettere un po' Per vedere come va Sempre 9,9,1 Non vuol A portarsi in frequenza Prima c'è stato un momento Che è andata a 9,9,6 Che sono 4 Hz al di sotto Perciò più che accettabile Voglio un attimo Provare A tirarsi un po' di potenza qui Magari Io sono qui In piedi A un metro di distanza dalla radio E sto cercando Di portarla A mea La ripresa è un po' lunga Ma comunque In qualche maniera Ci proviamo 9,9,6 Un po' critica la facella La ripresa è un po' di potenza Adesso siamo addirittura Andati su A 1,7 Pensa a te Che strane che sono Stranissima Adesso addirittura Da 9,9,1 È andata a finire A 1,7 Adesso la nota mi sembrava 1,1 tondi Giusti, 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 giusti Vediamo un po' 1,7 Adesso sta andando su Adesso sta andando su Praticamente è una cosa Impossibile Sì, vediamo un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.